Sono andata in viaggio in nozze con mio ex marito nel 74 in Giappone. L'immagine che avevo in mente della donna giapponese era molto stereotipata. Immaginavo una donna molto sottomessa, anche molto, ecco in francese si direbbe fa sé, cioè che si tiene molto in disparte, che non si fa notare, che sta chiusa in casa. Invece quando sono andata in Giappone sono rimasta spiazzata perché intorno a me, ovunque, nei bar, nei ristoranti, ma anche la sera, vedevo gruppi di donne sole, in coppia, che si divertivano, che se la spassavano. Anche questo per me era spiazzante, perché questa allegria, questo essere sorridenti, perché questa immagine che avevo io della donna sottomessa la voleva anche un po' tristaroniola. Io vengo da una famiglia siciliana in cui le ragazze troppo ridanciane erano troppo allegre, e non erano ben viste. Infatti da noi l'espressione una donnina allegra significa una donna di cattivi costumi, e invece queste donne erano sorridenti, simpatiche, piacevoli, socievoli, e questo è stato un primo, quasi uno shock. Comunque quella volta sono tornata a Parigi e tre anni dopo mi sono trasferita in Giappone con il mio ex marito. Naturalmente senza che tu conoscessi la lingua. Niente, non sapevo niente, però ero rimasta molto frustrata dal fatto di non poter parlare con i miei suoceri, che erano molto molto cari, mi avevano accolto come una figlia, e quindi ho comprato un paio di testi e mi sono messa a studiare il giapponese da sola, da autodidatta, e sempre l'ho studiato così, da autodidatta. Dopo tre anni siamo tornati in Giappone e ho avuto modo di capire il perché della mia sorpresa iniziale, perché le donne giapponesi mi erano apparse così diverse da quando me le ho immaginate io, perché in realtà la loro condizione è molto diversa, non è né più avanti né più indietro, e molto diversa da quella delle donne occidentali, da quella delle donne arabe, anche se io non la conosco, la condizione delle donne arabe, insomma da tutto quello che avevo potuto immaginare prima. Ve ne parlo brevemente perché questo poi ci conduce anche alla letteratura, non è un discorso così inutile. Poi fa sempre bene perché continua a esserci questa prevenzione, comunque questo stereotipo della donna giapponese, del passo dietro all'uomo comunque che deve fare ancora tanta strada. Esatto, esatto. Poi tutte noi dobbiamo ancora fare tanta strada, però siamo abbastanza sulla stessa via. Esatto, esatto, ci sono ancora molti molti pregiudizi. E quindi mi sono resa poi conto che in Giappone c'è sempre stato, ci sono sempre stati degli spazi nei quali le donne si potevano muovere liberamente, spazi anche in senso metaforico, spazi che sono ruoli, che sono sfere di attività, spazi più limitati di quelli riservati agli uomini che però avevano le loro regole che venivano rispettate da donne e da uomini, che nessuno si permetteva tutto un tratto di annullare così, con un colpo di spugna. E all'interno di questi spazi che sono, possiamo anche definirli, per esempio tutte le arti tradizionali sono praticate da club, da circoli, da scuole proprio molto severe, anche molto professionali, che sono quasi solo frequentate da donne, con gerarchie precise e con un importantissimo giro di denaro. Poi le donne giapponesi hanno moltissimi hobby che praticano molto seriamente e soprattutto le donne giapponesi hanno sempre avuto i cordoni della borsa e questo ha sempre dato loro il potere economico e cosa che, insomma, facilmente intuibile, dà loro anche un potere concreto, anche se non formalizzato. Sì, infatti, cordoni della borsa, scusate se chiedo delle specifiche, appunto perché in casa, diciamo, classicamente, generalmente, insomma, l'uomo lavora, quindi dal mattino alla sera fuori casa, poi porta lo stipendio praticamente, che consegna alla moglie, che poi gestisce le spese anche del marito, dandogli un tot per comprare quello che... al punto che, perché adesso tutto avviene via banca, via bonifico, ma una volta, quando io abitavo in Giappone, circolava ancora molto contante. E era a Florida l'industria delle false buste per lo stipendio, perché le buste per lo stipendio hanno una forma precisa, delle false buste che i mariti compravano, e mettevano dentro lo stipendio, toglievano qualcosina di nascosto, poi le chiudevano e consegnavano alla moglie in modo da avere un po' di soldi in più di quelli che la moglie consegnava loro. Poi, purtroppo, queste dite credo che abbiano dovuto chiudere, perché ormai... nelle banche, insomma, tutto nero su bianco e così. E comunque uno degli spazi tipici dove la donna giapponese ha potuto esprimersi è la letteratura. L'arte, dunque, ma soprattutto la letteratura. Sia come lettrice, perché le donne giapponesi leggono moltissimo, sia come scrittrice. Sia come scrittrice. Ma di questo adesso parlerò dopo, e adesso vorrei sentire Gianluca. Certo, anche a Gianluca, dopo che abbiamo parlato molto di donne, un po' di ruolo delle donne, eccetera, eccetera, mi sembra giusto lasciare la parola a te, insomma, ci puoi spiegare invece qual è stato il tuo incontro, di approccio con la lingua e la letteratura giapponese. Intanto buonasera a tutti. Anche il mio incontro con il Giappone risale a parecchi anni fa, agli anni settanta, il primissimo incontro, metà anni settanta. Che cosa succedeva in Italia a metà anni settanta che riguardava il Giappone? La prima grande invasione degli anime, cartoni animati giapponesi alla tv. 75-76 era uno scolaretto degli elementari. La mattina queste reti private, canali privati, quelli che poi sarebbero diventati canali 5, Italia 1 e così via, trasmettevano i primissimi cartoni animati di Nagai Go, Kotetsu Jig, Jigrobo d'acciaio, Mazingazetto, Mazingazeta. Io faccio parte di quella generazione che, appunto, per la prima volta ha avuto l'opportunità di guardare alla tv questi cartoni animati. Li facevano al mattino molto presto, alle 7, 7 e mezza, e quindi prima di andare a scuola era una nostra prerogativa quella di guardare queste puntate di questi cartoni animati. Poi a scuola si parlava di questo. O hai visto quel robot, com'era strano, com'era particolare, quello lì che assomigliava a una lucertola, quell'altro lì che faceva quelle cose folli, quelle cose pazze. Questo è stato il mio primissimo incontro con il Giappone che a livello forse subliminale mi ha influenzato. Poi l'incontro vero e proprio che mi ha permesso pian piano di diventare poi un esperto di letteratura giapponese moderna e contemporanea e un traduttore è avvenuto ovviamente anni dopo, a fine anni Ottanta, quando mi sono iscritto all'università all'Orientale di Napoli, e poi a metà anni Novanta quando sono andato in Giappone per 7 anni, quindi è un po' di anni dopo rispetto ad Antonietta, e preceduto tutto questo da un incontro con la letteratura giapponese attraverso la lettura dei grandi del Novecento, Tanizaki, Kawabata, Mishima, e soprattutto l'autore di cui mi occupo più di tutti gli altri, cioè Abe Kobo, che ho letto e ho incontrato grazie proprio ad Antonietta Pastore che è stata la prima traduttrice in Italia di Abe Kobo traducendo a inizio anni Novanta, se non ricordo male, L'uomo scatola, 91 Hakotoko di Abe Kobo, un romanzo che mi ha colpito, mi ha stregato, mi sono occupato di questo autore, ho scritto la tesi, la tesi anche di dottorato, e quindi ho continuato il mio percorso nei 7 anni in Giappone occupandomi di questo autore in particolare, del suo teatro, delle sue sperimentazioni, sperimentazioni, e poi pian piano ho avuto la fortuna di cominciare a tradurre, diventare traduttore, soprattutto di autori e di autrici contemporanei, di cui forse poi parlerò più avanti. Perfetto. Infatti è uscito un tuo saggio l'anno scorso, mi sembra, proprio su Utopia, ricordami... Utopia, Sperimentalismo e Rivoluzione nell'opera di Abe Kobo. Sì, che ho letto, sai? Grazie mille. È un saggio quello che effettivamente raccoglie un po' di miei lavori precedenti, un po' rivisti, anche poi ovviamente cose nuove, che ha un approccio, voglio dire, non prettamente accademico, e che credo, insomma, godibile per il pubblico, per il lettore che si occupa comunque di Giappone, e vuole conoscere qualcosa di più su questo autore, sulla letteratura moderna e contemporanea, soprattutto sperimentale. In quel libro soprattutto parlo di, e mi occupo di Abe Kobo, negli anni 70, dagli anni 70 in poi, cioè quando viene fuori molto questa sua vena sperimentale, sono gli anni dell'Uomo Scatola. Sì, surrealista, fantastica. Sì, molto surrealista, ma anche sperimentatore, anche a livello teatrale, poco conosciuto. Sto preparando un altro libro, in realtà dovrebbe, speriamo, uscire fra un tre anni, se tutto va bene, sul teatro sperimentale di Abe Kobo. Una parte sia critica, sul suo lavoro per il teatro, e poi anche la traduzione di alcune sue opere, di alcuni suoi drammi per il teatro. Lui aveva una sua compagnia teatrale, sono cose che in Italia sono poco conosciute, a parte ovviamente gli specialisti, quindi mi fa molto piacere poi cercare di introdurle, presentarle anche in Italia. Bene, grazie. Antonietta, ma noi partiamo dal fatto che, di nuovo per parlare di te, insomma che ci sono cari, non tutti sanno che probabilmente il primo romanzo della storia, ma forse non è esattamente così, ma potrebbe esserlo, il primo romanzo della storia è il Genji Monogatari, scritto da una donna intorno all'anno 1000, Murasaki Shikibu. Quindi possiamo dire che la letteratura giapponese, la letteratura giapponese sicuramente inizia grazie alle donne. Inizia grazie alle donne, in realtà nessun paese al mondo deve letterariamente tanto alle donne quanto al Giappone. A questo proposito io credo che si possa tracciare un parallelo tra la condizione della donna in Giappone e la creatività letteraria. Cioè più la condizione della donna era libera, più sono fioriti talenti letterari. Allora, all'inizio Murasaki Shikibu, che ha scritto il Genji Monogatari, era una dama della corte di Kyoto. La corte di Kyoto, il Giappone era anticamente un paese, una società matriarcale, e l'importanza che veniva data alle donne nella società matriarcale si era conservata nella corte di Kyoto dell'epoca Heian, che è a cavallo, prima del 1000, insomma, cavallo degli anni da 794 al 1192. E in quest'epoca, Heian, alla corte di Kyoto, c'è stato un fiorire straordinario di talenti di tutti i tipi nella musica, nella poesia, nella letteratura, ma soprattutto di donne. Era una corte raffinatissima, si facevano gare di poesie, si facevano trattenimenti in cui ognuno recitava le proprie, e molte donne hanno scritto, hanno scritto, prima per tutto appunto, Murasaki Shikibu, con la storia di Genji, che è un romanzo in cui si narrono gli amori e le avventure del principe splendente Genji. Poi c'è Seishonagon, che forse voi conoscete con le note del guanciale, il diario di Izumi Shikibu, insomma, tante dame di corte hanno scritto romanzi, diari, hanno scritto poesie, nel Maiosho ci sono tantissime autori donne, e il Maiosho è una collezione di migliaia di poesie di quest'epoca, del VII secolo, e insomma, in questo periodo, fiorisce la letteratura femminile in maniera straordinaria, straordinaria. Cosa succede poi? Che per influenza sia del confucianesimo che del buddismo, a poco a poco, alla corte di Chioto, la posizione delle donne scende, scende, perdono prestigio, e soprattutto con l'avvento del potere dei militari, degli Shogun, che poi durò fino alla fine, quasi alla fine dell'Ottocento, con l'instaurarsi di un governo militare che dava importanza solo al saper menare la spada, le donne furono relegate in casa, perso completamente la loro libertà, si può dire, la loro libertà perché non facevano, non potevano uscire, non solo, non potevano neanche imparare a leggere, in una classe, in una società in cui l'importante era sapersi battere, chiaramente la penna non serviva quasi a nulla, ci fu nei secoli fiorire del teatro, della poesia, ma solo maschile, le donne rimasero relegate in casa, soprattutto le donne di classe sociale elevata, perché le contadine comunque lavoravano nei campi, partecipavano alla produzione, leggere non sapeva nessuno, né uomini né donne, quindi c'era forse un po' meno di discriminazione. Le donne più libere erano forse le commercianti, le mogli dei mercanti delle grandi città che perlomeno andavano al teatro Kabuki, che facevano il tifo per questo quell'attore, si divertivano un pochino. Le donne delle classi elevate uscivano di casa solo per andare al tempio a trovare dei parenti con pompa magna, per carità, con una schiera di armigeri, però erano delle ignoranti praticamente, non sapevano, oppure erano riuscite a imparare a leggere seguendo le lezioni che un istitutore privato dava ai fratelli maggiori e minori che magari erano delle capre, però loro più intelligenti, non sempre ovviamente, però loro più intelligenti riuscivano a cogliere qualcosa e riuscivano a scrivere magari un piccolo diario personale, però insomma era tutto rimasto a questo livello. Quindi c'è stato un secolo di buio per la creatività letteraria femminile che sono finiti solamente quando il Giappone si è aperto all'occidente e quindi col 1868 esatto, quando è crollato il governo dello shogun degli shogun perché poi gli shogun sono stati tanti i nuovi governanti volevano modernizzare il Giappone e quindi cosa hanno fatto? Hanno dato una costituzione quindi la donna ha finalmente avuto statuto giuridico prima non esisteva il padre famiglia aveva diritto di vita o di morte sulla moglie e sui figli finalmente la donna è divenuta persona giuridica ma ha tenuto qualche diritto tra cui quello di divorziare anche se insomma era un diritto solo sulla carta perché poi le donne che non lavoravano come potevano divorziare e soprattutto il nuovo governo ha istituito l'istruzione pubblica per tutti l'istruzione obbligatoria per tutti e quindi le donne hanno cominciato ad andare a scuola l'istruzione elementare per tutti per sei anni è diventata obbligatoria e avevano le stesse classi maschi da una parte femmini dall'altra ma stavano nelle stesse classi alcune materie differivano e questo fino agli anni Ottante in realtà l'economia domestica queste cose qui erano riservate alle bambine però fondamentalmente le materie erano le stesse ecco allora questo passaggio questo cambiamento immediatamente immediatamente ha visto il fiorire di nuovi talenti letterari femminili come miracolosamente abbiamo grandi nomi come molto molto importanti come per esempio Higuchi Higuchi Ichio oppure la poetessa Yosano Akiko abbiamo tante aspettate quella che volevo citarvi di più Higashi Fumiko 1CO Nogami Ego sono tutte donne tutti talenti femminili fioriti in questo periodo nella fine ottocento inizio del novecento e quindi è così evidente il fatto che queste donne siano potute abbiano potuto esprimersi perché è stato dato loro il mezzo di imparare a leggere il mezzo di imparare che credo sia evidente a tutti contemporaneamente si formava un piccolo movimento femminista che in sé non ha avuto molta importanza sul momento ma ha messo le basi poi per quello che sarebbe stato ma in fondo è stato questo inizio di movimento di pensiero femminista è stato contemporaneo anche con gli Stati Uniti e con l'Europa infatti per esempio c'era una rivista che si chiamava Seito che significa blue stocking che si riferiva proprio al movimento inglese e quindi insomma ci sono nati dei circoli letterari quello di Masao Kashiki per esempio che erano soprattutto circoli di poesia ma ne facevano parte anche delle donne e poetesse e scrittrici e romanziere e tutto questo per tutti gli anni dato avanti fino quasi agli anni trenta qui piombiamo di nuovo nel buio perché con l'ascesa del militarismo e poi la guerra e tutto quanto vengono chiusi molti circoli letterari vengono perseguitati molti cittadini tanto per cominciare ma anche la maggior parte degli scrittori a maggior ragione le scrittrici alcune scrittrici furono imprigionate e anche torturate insomma fino alla fine della guerra non nessuno ha più potuto fiatare nessuno ha più potuto fiatare si è dovuto aspettare la fine della guerra perché si ricreasse un'industria letteraria culturale rinascesse la letteratura sparirono immediatamente tutti gli autori che erano fioriti durante il fascismo che avevano solo glorificato il regime viene promulgata una nuova costituzione che dà pari diritti alle donne e a poco a poco anzi ben presto nascono talenti importantissimi donne come Ayoshi Sawako come Fumiko Enchi insomma tutte le grandi scrittrici Tsushima Yoko Yuko Settouche Orumi grandi scrittrici che tutti i giapponesi conoscono insomma che fanno parte sono quasi dei classici moderni dopo la guerra fioriscono tutti dopo la guerra poi e la produzione letteraria femminile procede di pari passo man mano che le leggi promuovono l'uguaglianza tra uomo e donna e man mano che il movimento femminista non in quanto tale ma in quanto ispiratore ecco promuova una reale uguaglianza perlomeno nei diritti e che la condizione della donna cambia e la donna acquisisce maggiore ruolo maggiore visibilità e maggiori possibilità e arriviamo agli anni 80 dove però mi fermo perché agli anni 80 ne sa molto di più Gianluca Coci di quanto ne sappia io no grazie Antonietta in realtà non è affatto facile riassumere in poche parole oltre i mille anni di storia della letteratura giapponese e io mi permetto di mostrarvi questa immagine purtroppo un po' sfocata perché ci aiuta molto per fare ripetere un po' questo excursus sulla letteratura giapponese negli ultimi anni esattamente a cominciare dal 2014 Kawade Shobo Shinsha che è una delle case editrici giapponesi più importanti con una vocazione particolarmente culturale ha dato alle stampe e continua a dare alle stampe questo bellissimo Zenshu Zenshu è un'opera omnia un'opera completa della letteratura giapponese intitolata semplicemente Nihonbun Gakuzenshu la raccolta completa della letteratura giapponese curata da Ikezawa Natsuki che è uno degli autori più importanti del dopoguerra giapponese e tra l'altro poi l'unica traduzione che abbiamo in italiano una raccolta di tre o forse quattro racconti tradotta proprio da Antonietta per Enaudi alcuni anni fa Ikezawa Natsuki che qualcuno di voi se c'è qualche studente qui dell'Università di Torino presente in sala l'ha avuto l'occasione anche di conoscere di persona perché è stato nostro ospite al convegno a Estugia l'associazione di studi giapponesi italiana è stato il nostro ospite d'onore l'anno scorso è stato qui a Torino 2016 a settembre e ci ha raccontato un po' questo suo progetto questa grande raccolta della letteratura giapponese in 30 volumi pubblicata da Kawade dal 2014 ormai è arrivata quasi agli ultimissimi volumi mancano ancora due volumi gli ultimi due volumi che sono il secondo e il terzo volume della traduzione della ritraduzione in lingua moderna del Genji Monogatari di cui parlava prima Antonietta tra l'altro noi abbiamo dovuto aspettare scusami tanto tempo prima che fosse tradotto direttamente dal giapponese in italiano pensate cioè un'opera del mille è stata tradotta dal giapponese in italiano anche questa due anni fa credo nel 2012 credo pochi anni fa abbiamo dovuto aspettare moltissimo perché tantissima letteratura classica giapponese è sempre stata tradotta dall'inglese dal francese comunque e questa traduzione la dobbiamo a Maria Teresa Sì professoressa Fiorentina di Roma Sì finalmente dopo anni e anni in cui eravamo costretti in un certo senso a leggere il Genji Monogatari tradotto dall'inglese in italiano finalmente dal 2012 si può leggere la traduzione diretta dal giapponese ma tra l'altro Maria Teresa Orsi poi ci sono tanti altri anche esperti di letteratura classica giapponese in Italia qui in sala c'è Andrea Maurizzi che è un altro grande esperto tra l'altro di letteratura classica al quale dobbiamo poi diverse traduzioni di Monogatari del periodo Heian grazie a questi studiosi che finalmente anche in Italia non abbiamo traduzioni dirette di queste importantissime opere della letteratura giapponese antica tornando a questa raccolta l'operazione di Ikezawa molto importante è stata quella secondo me a mio avviso una grande intuizione di far ritradurre i Monogatari in particolare ma anche raccolte poetiche del periodo Heian a autori contemporanei tutti capite Monogatari Monogatari alla lettera significa racconti di cose e un po' sono il corrispettivo dei nostri racconti o romanzi quelli un po' più lunghi insomma sono delle forme antesignane del romanzo moderno sono dei racconti narrativa di cose narrativa queste opere del periodo Heian quindi intorno all'anno 1000 per sintetizzare sono state ritradotte in questa raccolta in 30 volumi da autori di una certa importanza di un certo rilievo della letteratura contemporanea per esempio il primo volume di questo Zenshu di questa opera omnia è il Kojiki che è la prima opera se vogliamo di narrativa letteraria anche storica giapponese che risale all'ottavo secolo ritradotta in lingua moderna dallo stesso Ikezawa Natsuki e ne avevamo parlato la scorsa volta perché parlando di spiritualità in Giappone ovviamente abbiamo fatto dei riferimenti al Kojiki al Nihon Shoki che sono i due primi libri che raccontano insomma la nascita di questo luogo le prime credenze di tipo filosofico religioso eccetera e poi per esempio e tanto per citare magari gli autori che sono noti anche al pubblico ai lettori italiani Ise Monogatari un'altra importantissima opera del periodo Heian è stata ritradotta e pubblicata nel terzo volume di questa raccolta da Kawakami Hiromi pubblicata in italiano con la traduzione di Antonietta Pastore da Einaudi oppure il Sarashina Nikki ritradotto da Ekuni Kaori lo Heike Monogatari questa grande opera epica militaresca opera guerresca del Giappone antico un'opera monumentale di oltre 700-800 pagine ritradotta da Furukawa Hideo un altro autore di punta di questi ultimi anni si poi magari ne parliamo bene visto che è appena uscito il suo libro l'hai tradotto tu poi facciamo tutta una carrellata sugli autori più contemporanei proprio da Andrea Maurizzi che citavo prima quindi insomma sono un po' di anticipazioni che secondo me fa piacere dare al pubblico ma una cosa interessante ecco il Genji Monogatari il Genji Monogatari pubblicato in questa raccolta è in corso di pubblicazione è stato diviso in tre volumi è uscito il primo volume a novembre dell'anno scorso per opera di Kakuta Mitsuyo che è una autrice tradotta da me in italiano ha scritto libri e romani che forse qualcuno di voi ha letto pubblicati ci piace molto la cicala dell'ottavo giorno la ragazza dell'altra riva e che ha tradotto il ritradotto in lingua moderna il Genji Monogatari il secondo volume uscirà tra qualche mese poi si concluderà questa grande opera il trentesimo volume con la terza parte del Genji Monogatari insomma l'operazione che ha fatto Ikezawa è quella di avvicinare l'antichissima la vecchia generazione dei grandi autori delle grandi autrici della letteratura giapponese dell'anno 1000 o giù di lì e poi gli autori contemporanei quindi li ha riavvicinati in un certo senso perché il suo intento come dice purtroppo non si riesce a leggere la parte lì alla mia destra quindi la vostra sinistra un po' più in grande il suo intento proponendo queste opere sia antiche che moderne e contemporanee è quello di indagare sulla natura stessa dei giapponesi dice lui in quest'epoca di grande confusione cerchiamo di riscoprire le nostre origini attraverso la letteratura quindi partendo dal Kojiki attraverso le grandi opere i grandi monogatari del periodo Heian arrivando fino ai grandi del novecento Tanizaki Kawabata Abe Kobo e poi autori contemporanei ha riproposto in 30 volumi la storia della letteratura giapponese agli stessi giapponesi che in realtà poi purtroppo anche lì anche da loro si legge sempre meno allora si cerca un po' di invogliare si sa che riscontro hanno avuto questi volumi sta avendo grande successo sta avendo grande successo se ne parla tantissimo all'epoca dell'uscita quindi dell'inizio del progetto nel 2014 se ne è parlato su tutti i giornali hanno fatto programmi televisivi per cui davvero c'è stato un grande riscontro beh dobbiamo dire che la mole di lettori in Giappone è forse 50 se non addirittura 100 volte è superiore a quella che c'è in tanti paesi europei si pubblica tantissimo compreso il nostro se entriamo se siete entrati o se entrerete in una libreria giapponese per quanto in crisi è sempre comunque al di là dei nostri sogni più rose in Giappone ci si perde nelle grandi librerie giapponesi a Tokyo ma non solo ci si perde davvero quindi davvero c'è una molla di obbligazioni piani e piani di libri mostruosa quindi si legge tanto ma comunque molto meno rispetto al passato quindi queste diciamo operazioni la felice intuizione di Kezawa Natsuki cerca anche poi di invogliare di far tornare di far tornare insomma alla lettura quindi il Genji Monogatari magari i giovani giapponesi non lo leggono ma se poi sanno che è stato ritradotto da Kakuta Mitsuyo l'autrice letta anche dai giovani la cicala dell'ottavo giorno in Giappone ha venduto un milione di copie allora è chiaro che poi anche i più giovani sono invogliati ad avvicinarsi alla letteratura antica quindi ai grandi classici certo è molto diverso il giapponese classico dal giapponese moderno è molto diverso io dico sempre per fare un po' per dare l'idea c'è molto più che la differenza che possiamo immaginare noi tra l'italiano e il latino quindi sono davvero quasi due lingue diverse un giapponese di oggi che non ha un'educazione sulla lingua classica non sarebbe in grado di leggere il Genji Monogatari e tutte queste altre opere antiche poi comunque è sempre molto rischioso anche per anche per chi come una bravissima scrittrice come Kukuta Mitsuyo è in grado di convertire un pensiero una frase scritta nel mille in un linguaggio contemporaneo però è sempre un terreno molto vicido perché a volte si può incorrere invece in grandi errori perché come si fa a restituire una sensibilità di mille e cento anni fa con quella attuale è un'operazione davvero difficile ci vuole un grande lavoro è come la traduzione praticamente come la traduzione però immagino che con persone qui poi voi avete tanto da dire però voi non so potete incontrare i vostri i vostri autori potete parlare insieme a loro siete persone dello stesso momento storico no? se potessi incontrare Seishon a gommi divertirei tantissimo ne sono certa però avremmo un po' di difficoltà a capirci forse all'inizio anche se lei è attualissima ma curano soci il libro del guanciale io continuo a sostenere che è un libro talmente attuale che davvero vale la pena di leggere e rileggerlo perché poi sono queste brevi note o descrizioni che al massimo sono lungo un paio di pagine quindi è veramente gradevole ve lo consiglio se non l'avete ancora letto sì ma curano soci che fa parte di questa grande raccolta avevo un attimo prima guida il settimo volume tradotto in lingua moderna da Sakai Junko che non è ancora stato pubblicato in italiano ma insomma è un'altra esponente della letteratura contemporanea Kakuta Mitsuyo nel lancio pubblicitario nel lancio promozionale della sua versione del Genji monogatari appare vestita con un elegante kimono color crema per immedesimarsi insomma le stesse in questa grande opera del passato ha impiegato diverso tempo per questa ritraduzione circa tre anni ha dovuto lasciare da parte insomma mettere da parte il suo lavoro di scrittrice di romanziera gli autori giapponesi contemporanei scrivono almeno due se non tre libri contemporaneamente sono sottoposti insomma a ritmi davvero massacranti pubblicano gli editori che li sottopongono sì perché ci sono le serializzazioni in Giappone quindi un autore deve pubblicare un libro un romanzo serializzato magari su un mensile ultimamente sono tornati in gran voga anche i romanzi pubblicati su grandi quotidiani quindi uno scrittore professionista giapponese scrive due se non tre romanzi contemporaneamente per un'autrice del calibro di Kakuta Mitsuyo mettere da parte il suo lavoro di scrittrice romanziera per tre anni e dedicarsi al Genji monogatari è stato un grande sacrificio però lei stessa lo ha dichiarato è stata ben ripagata perché un'esperienza come questa insomma fa parte ti crea un background poi di conoscenza letteraria notevole che riesci a sfruttare anche per il tuo lavoro di scrittrice i grandi molti grandi della letteratura giapponese si sono cimentati nella traduzione in lingua moderna del Genji monogatari Tanizaki Junichiro e forse la sua versione una delle più belle la stessa Yosano Akiko Seto Uchizakucho insomma sono tanti gli autori che poi nel corso del tempo hanno riproposto questo grande classico riproposto tra l'altro forse probabilmente lo sapete anche in versione anime ce ne sono almeno due o tre versioni differenti io ne ho una bellissima con musica di Haruomyo Sono ex Yellow Magic Orchestra manga versioni manga insomma quando sia le opere del passato sia i romanzi contemporanei quando poi hanno grande successo vengono riproposti poi nelle varie versioni con i vari mesi mediati da quelli insomma più tradizionali a quelli più moderni è anche molto bello questo intreccio che è sempre presente nella cultura giapponese che si tratta di arti visive di letteratura di architettura c'è sempre un incontro c'è sempre un riferimento al passato rivisitato rivisto e rimesso in luce in maniera contemporanea io credo non so se Antonietta è d'accordo ma non c'è paese al mondo in cui la letteratura sia più amata che il Giappone c'è un'attenzione un amore per la letteratura per la scrittura che non è uguale in nessun'altra parte del mondo quando io abitavo in Giappone nel treno leggevano tutti adesso purtroppo le ultime volte ho visto anche tanti cellulari c'è da dire che si legge anche sul cellulare si legge anche sul cellulare perché uno dei mezzi di cui di cui tu parlavi è anche il romanzo attraverso il cellulare romanzo per cellulare che però pare non abbia discorso purtroppo il successo ma alcune autrici sono partite da lì però ne avevo parlato qualche anno fa avevo scritto un articolo sul venerdì appunto di questo fenomeno perché comunque era un qualcosa che prendeva molto piede chiaramente fra i giovani perché si poteva dal cellulare ogni giorno tipo delle puntate ma veramente di poche righe e sono venuti fuori comunque alcune nuove scrittrici fra l'altro era molto utilizzato dalle donne questo mezzo che poi le case editrici a quel punto contattavano visto quante persone leggevano e stampavano poi un libro però sì si è un po' come dire l'interesse è andato un po' fermato però mi piacerebbe appunto che raccontassimo che cosa vuol dire entrare in una libreria a Tokyo insomma dalle più grandi o dalle storiche come Kinokunia Shinjuku a quelle più nuove a Daikanyama spazi architettonicamente magnifici e dove si può passare la giornata e si può anche leggere nel senso che perché si può prendere il libro e leggere non bisogna necessariamente comprare ci sono delle copie che sono a disposizione dei clienti si può stare in piedi a leggere un intero libro volendo il mio approccio con le librerie giapponese è stato anche il mio approccio con la letteratura giapponese allora vi ho detto che avevo avuto una sono stata in viaggio di nozze nel 74 ed ero rimasta talmente affascinata dalla cultura giapponese dall'estetica dalla gentilezza del perdatuto che poi dopo tre anni con mio marito abbiamo insieme abbiamo deciso di trasferirci in Giappone a Osaka e questo periodo di fascinazione è durato per alcuni mesi poi cominciando a lavorare inserirmi nella società giapponese insegnavo in una scuola di lingue è succeduto molto presto un periodo di rifiuto di netto rifiuto succede a tante persone in Giappone purtroppo alcuni stranieri soprattutto gli americani gli inglesi si fermano lì di netto rifiuto in cui vedevo una barriera di formalità tra me e i giapponesi una barriera che non riuscivo a sfondare al di là della quale non riuscivo ad andare e lì mi ero fermata in quel periodo leggevo in inglese infatti l'inglese era migliorato moltissimo anche il giornale lo leggevo in inglese perché cominciava a parlucchiare il giapponese però ancora non lo leggevo ero praticamente un'analfabeta per qualunque cosa da leggere ci fosse in giapponese facevo conto mi affidava mio marito e quindi leggevo in inglese leggevo in inglese e andavo a comprare i libri nella libreria Kinokunia della stazione centrale di Ume da Osaka una libreria su diversi piani con tantissimi settori dove io passavo anche pomeriggi interi a cercare fra tutte le traduzioni di letteratura giapponesi ho scoperto no non le traduzioni all'inizio cercavo libri inglesi libri inglesi e qualche libro francese italiano non ce n'erano e infatti mi sono fatto un po' una cultura infatti di letteratura inglese e americana un giorno quasi per sbaglio perché nessuno mi aveva parlato della narrativa della letteratura giapponese mio ex marito era molto colto ma lui leggeva soprattutto saggistica e non vedeva di buon occhio la narrativa quindi si conoscevo pochi nomi Mkawabata Mishima ma forse li avevo letti in traduzione francese ma mi ero fermata lì un giorno sono quasi per sbaglio sono passata nel settore della libreria dove c'erano le traduzioni di letteratura giapponese in inglese tantissime un pochino di francese italiano più o meno così perché le traduzioni italiane negli anni 70 erano veramente pochissime e allora lì ho cominciato a girare il primo a sfogliare insomma ero assolutamente affascinata e ho cominciato a sfogliare dei libri uno a leggere un pochino e decisa a comprarne qualcuno ne ho comprati due di cui uno non ricordo quale fosse uno non ricordo benissimo perché era io sono un gatto di Natsume Soseki e io all'epoca non leggevo il giapponese quindi se qualcuno mi avesse detto che un giorno l'avrei tradotto in italiano avrei pensato questo abbia avuto qualcosa è completamente pazzo e invece poi l'ho tradotto cioè ho avuto l'onore la gioia il piacere di tradurlo era un libro talmente bello mi ha talmente affascinato che da lì sono andata avanti a leggere tanta letteratura giapponese in traduzione inglese più o meno ben fatta ma ecco e questo per me è stato fondamentale ma perché è stato fondamentale io vi ho appena detto che avevo questo rifiuto nei confronti dei giapponesi della società giapponese che vedevo chiusa vedevo le persone fredde inespressive i miei suoceri che erano adorabili mi sembravano delle mosche bianche e non mi veniva neanche in mente che forse ero io che non riuscivo a vedere cosa ci fosse al di là allora leggere la letteratura giapponese la narrativa giapponese autori come Tanisaki come Kawabata leggere di tutta questa passione che c'era nelle persone nei personaggi di tutto questo tormento di tutto questo anelito e all'amore e a qualcosa di superiore e di tutti i dubbi mi sono resa conto che ero davanti che era in realtà un popolo come tutti i popoli nel cui profondo si agitavano le stesse passioni profondissime dolorose o belle o sublime o anche brutte e quindi mi sono resa conto che c'era lì qualcosa di molto prezioso da scoprire da scoprire che dovevo scoprirlo io che non erano loro che dovevano venire verso di me ma che ero io che dovevo andare verso loro e non è che improvvisamente questo muro sia caduto poi ho dovuto fare altri passi però ho capito che c'era qualcosa dietro e ho capito che dovevo cogliere cogliere i segnali che mi venivano lanciati e sono stata capace poi di cogliarli perché erano passati anni perché il mio sguardo sul Giappone era valuto e questo lo devo alla letteratura giapponese alla letteratura e quegli traduttori che l'hanno tradotta per me in inglese al loro tempo e questo mi mostra come la letteratura sia sempre un mezzo e questo mi ha dato un'apertura mentale mi ha dato la possibilità di coprire i giapponesi una maggiore apertura mentale ha aperto i miei orizzonti per quello che riguardava sia il Giappone sia me stessa poi ovviamente c'è un ritorno ecco come la letteratura che da una parte nasce dalla libertà perché tante donne hanno potuto scrivere quando hanno potuto farlo perché avevano la libertà di farlo la letteratura nasce dalla libertà ma a sua volta dà libertà dà libertà alle persone c'è questa fortissima corrispondenza tra libertà e letteratura tra libertà e creazione letteraria e anche consumo letterario questa fortissima corrispondenza che credo sia una delle cose più importanti più preziose che ci possono essere in una società ed è per questo che la dobbiamo strenuamente difendere grazie Antonio per questa energia e oltre a questo che mi sembra già un fatto importantissimo cioè quello che la letteratura è libertà e ti permette anche di conoscere persone che magari per chi sta in Giappone poteva avere il raffronto immediato ma per chi come noi sta in Italia e conosce pochi giapponesi attraverso la letteratura ci si può molto avvicinare alla loro sensibilità al modo di vivere eccetera Gianluca ci si può anche permettere di viaggiare con un libro che parla di Giappone scritto da un attore giapponese quindi c'è anche questo concetto che è un mezzo che ci permette di viaggiare di visitare luoghi e incontrare posti che altrimenti non vedremmo sì difatti proprio qualche giorno fa un amico via mail mi chiedeva ma come fai a tradurre tutti questi libri tutti questi domandi giapponesi perché effettivamente traducendo io viaggio probabilmente è la cosa che mi piace fare di più perché attraverso la traduzione entro in quelle storie conosco quei personaggi e visito dei posti che oggi per fortuna molti li ho visitati personalmente li conosco però insomma molti si possono poi anche vedere guardare in qualche modo attraverso internet quindi la letteratura permette di viaggiare infatti quando poi tu stessa mi hai parlato di questa bellissima iniziativa del circolo dei lettori cioè questo viaggio che è stato organizzato sì sì perché noi vorremmo comunque vorremmo concretizzare poi a novembre un viaggio in Giappone per un gruppo non enorme insomma ma insomma poter andare in quella stagione in cui inizia l'autunno per cui insomma è molto pittoresco vedere i momigi gli aceri che cambiano colore come sono tenuti i giardini viaggio ispirato alla letteratura ispirato alla letteratura perché io accompagnerei appunto le persone quindi mi concentrerei anche sui riferimenti letterari suggeriti dai vari scrittori e dai vari libri che ho letto e che posso proporre sì infatti come stavo dicendo quando hai parlato di questa bella iniziativa e poi di questa serie di incontri ho quindi pensato a questo questo tradurre e quindi leggere i libri anche per viaggiare mi sono venuti in mente diversi romanzi tra quelli che ho tradotto ma anche altri dove il viaggio diventa un po' protagonista ci sono queste storie on the road che sono insomma molto diffuse nella letteratura contemporanea e anche nella letteratura giapponese e io vorrei partire proprio dall'autrice che citavo prima Kakuta Mitsuyo traduttrice ultima del grande Genji Monogatari e poi autrice molto conosciuta molto letta in Giappone ha vinto il premio Naoki insomma davvero tra le più famose lette negli ultimi anni che in questo romanzo in particolare La Cicala dell'ottavo giorno racconta un viaggio è una storia un romanzo on the road in cui la protagonista una trentenne che si chiama Kivako ha una storia d'amore che finisce male viene tradita dall'amante in un certo senso e sente molto forte questo senso di questa voglia di maternità pur di soddisfare questa sua voglia questo solo desiderio di maternità rapisce la figlia dell'amante una bambina piccola di pochi anni e la porta con sé in questo viaggio in questo lungo viaggio in Giappone da prima a Nagoya una fuga una vera e propria fuga da prima a Nagoya poi nei dintorni di Nara dove viene in un certo senso rapita da alcuni adepti di una sorta di setta religiosa e poi infine la parte più bella del romanzo con la sua fuga in questa isola del Giappone che si trova si intravede nella foto lì nell'immagine più in alto che si trova tra lo Shikoku e la parte sud orientale dello Honshu Shodoshima dove si svolge poi la parte finale della storia e in cui l'autrice cita diversi posti e soprattutto il famoso pellegrinaggio degli 88 santuari che si svolge in quest'isola di Shodoshima che un po' in piccolo riproduce questa pratica molto diffusa nello Shikoku un vero e proprio pellegrinaggio che i giapponesi fanno di tanto in tanto e vanno appunto a visitare queste decine e decine di templi nello Shikoku in piccolo tutto questo questo pellegrinaggio viene riprodotto a Shodoshima insomma questa isoletta che si trova a nord di Takamatsu a nord dello Shikoku nel mare interno del Giappone e l'autrice racconta attraverso appunto gli occhi della protagonista di questa bambina di pochi anni queste tradizioni questi mazzuri le feste shintoiste le feste tradizionali shintoiste quindi va a visitare dei templi vedete in un'altra immagine dei luoghi famosi dello Shikoku e assiste a queste cerimonie più o meno note allora io vorrei leggere mi piace sempre poi leggere quando si parla di letteratura anche qualche brano e mentre poi potete guardare le immagini sullo schermo mi piace leggere una pagina in cui le due protagoniste si trovano appunto in quest'isola a Sodoshima e parlano di questo mazzuri questa festa tradizionale shintoista giusto per farvi insomma immaginare questo viaggio per cercare di visualizzare queste immagini durante la lettura Masae ci ha invitati tutti ad andare con lei al Mushio Kuri lasciando la nonna Enobuko a badare al ristorante il Mushio Kuri è una sorta di matsuri una cerimonia tradizionale di cui non avevo mai sentito parlare con la quale si intende cacciare via dai campi gli insetti nocivi e sperare in un buon raccolto a Sodoshima si svolgono numerosi eventi del genere ma qui è ben diverso dalle grandi città dopo che Yuri Shinno-Suke e gli altri bambini sono arrivati accompagnati da rispettivi genitori siamo saliti a bordo del furgone di Masae e siamo partiti alla volta di Hito-Yama nei pressi del Tamonji che è il tempio che vedete raffigurato in basso alla vostra sinistra uno dei principali templi buddhisti dell'isola si era già radunata una gran folla qui ce l'hanno lo zucchero filato ha chiesto a un certo punto Kaoru che è la bambina e quando Yuri parlando come un adulta le ha risposto no Kaoru stasera siamo qui per pregare che gli insetti cattivi non mangino il riso siamo scoppiati tutti insieme in una sonora risata per la cerimonia poi la cerimonia ha avuto inizio un monaco ha cominciato a recitare un sutra dopodiché ha acceso un cielo rosso alla fine le persone hanno preso a sciamare lentamente e in silenzio fuori dal tempio poiché i bambini erano ansiosi di uscire li ho lasciati andare avanti con Masai e mi sono attardata di proposito insieme a Kaoru nel giro di pochi minuti il tempio si è svuotato fino a restare deserto e mi sono messa a pregare Kaoru ormai avvezza questa mia abitudine mi è rimasta accanto buona buona anche lei a mani congiunte col capochino il Tamongi è il numero 46 dei siti sacri di Shodoshima ed era la prima volta che ci venivo questi tempi sono numerati 88 ognuno ha un numero e ci sono delle piantine delle cartine che i giapponesi i pellegrini i giapponesi portano sempre con loro eccola raffigurata lì alla vostra destra in cui si fa appunto il giro si segue tutto questo giro questo percorso potrebbe essere una metà del viaggio di novembre e lì dovremmo stare proprio un po' di giorni non credo che faccia parte Shodoshima del viaggio che farà no io ho pensato perché ho teorizzato insomma che le persone non fossero non sono ancora mai state in Giappone e quindi come primo viaggio non ci si può esimere da Tokyo Kyoto Nara e Kanazawa per esempio pochi posti per poter ricordare e guardare un po' bene perché in otto nove giorni si possono anche vedere più luoghi ma poi ci si confonde non si riesce neanche a prendere quel poco che si dovrebbe quindi per una prima volta direi che va bene così poi sarebbe è un socio questo sensato quello che però voglio insomma suggerire poi chiaro per la prima volta non si può prescindere da Tokyo da Kyoto e Nara certamente però il Giappone non è solo Tokyo Tokyo è un po' davvero un mondo a parte nel Giappone un po' come New York Los Angeles per gli Stati Uniti un po' come Londra per la Gran Bretagna per l'Inghilterra il vero Giappone è concentrato soprattutto nello Shikoku nel Kyushu in queste piccole isolette tipo appunto Sodoshima tra l'altro Sodoshima e qui un collegamento al Kojiki è una delle prime isolette che Izanami e Izanaki due tra le principali divinità del pantheon mitologico giapponese estragono da questo magma da questo mare in forme aveva un nome diverso però nel Kojiki è un nome diverso Kibi è davvero una delle prime isolette che nascono grazie all'unione fra queste due divinità quindi in questo libro nella cicala dell'ottavo giorno Kakuta Mitsuyo prende davvero distanze dalla metropoli da Tokyo che fa da contraltare all'isola dove sono vive le tradizioni dove sono vivi i Matsuri l'altra immagine quella lì in alto è proprio un'immagine che si riferisce al Mushi Okuri questo Matsuri tradizionale di cui parla Kakuta in questa scena in questo passaggio in questo brano del romanzo con queste torce che si portano al tramonto in giro per le risaie e che servono insomma nell'immaginario certamente religioso dei giapponesi a scacciare via gli insetti nocivi e quindi ad assicurare un buon raccolto di riso Tokyo è ovviamente una metropole una città da visitare ma nella letteratura contemporanea assume molto spesso una valenza negativa ci sono altri autori per esempio Abe Kazushige che mette molto spesso in contrapposizione Tokyo come luogo del male e poi la sua cittadina nativa nel Tohoku nel nord del Giappone dove invece c'è una sorta di rinascita quindi adesso non voglio dire non bisogna andare a Tokyo no infatti non devi dirlo però però senz'altro il vero Giappone le tradizioni del Giappone si trovano altrove Kyoto certamente Kyoto dà una grande idea di quello che è il Giappone tradizionale i templi buddhisti i santuari sintoisti ma è un po' per intenderci come Firenze per fare un paragone ma io ho studiato percorsi assolutamente alternativi per esempio andare nella casa di Natsume Soseki che è stata trasformata cioè rimessa a posto è trasformata in un piccolo museo dello scrittore perché Natsume Soseki comunque è nato a Shinjuku Tokyo e lì ha vissuto poi andava a Kamakura magari a scrivere in cerca di ispirazione però insomma era di Tokyo Murakami Haruki 1984 eccetera eccetera si fanno tantissimi riferimenti alla città anche come luogo di perdizione noi non andremo sicuramente in giro per Shinjuku per i locali diciamo porno e del sesso non credo perlomeno si sa mai però insomma per iniziare direi che Tokyo è imprescindibile così Kyoto poi a Tokyo andando per i vicoli per i vicoli si incontra ha molto fascino Tokyo è bellissima eh certamente sicuramente sì sì questo misto di capitalismo estremo e di paese lo troviamo anche a Tokyo lo troviamo anche a Tokyo è una città molto rassicurante non ti senti sperso minacciato si allegra puoi camminare girare io mi trovo molto bene a Tokyo poi probabilmente abitarci sarà insomma un paio di mani ovviamente ma poi faremo un viaggio ogni due mesi ma basta allontanarsi ma andiamo ovunque basta allontanarsi dalle stazioni principali a Tokyo e scoprire anche lì insomma qualcosa che senza altro ricorda il Giappone più legato alle tradizioni poi diciamo l'apertamento voglio dire tutti tutti non lo so la maggior parte degli scrittori contemporanei di successo che siano nati a Nagasaki a Kobe a Kyoto o nel Tohoku vanno tutti all'università a Tokyo rimangono a Tokyo per poi dire ok adesso ritorno al paesello e scrivo però il passaggino a Tokyo un bel pezzo di vita la fanno tutti ma poi trovano sempre il modo di mettere in risalto anche appunto le tradizioni della letteratura prima citavi Natsume Soseki sono stato a dicembre a Awaseda e hanno fatto addirittura la birra di Natsume Soseki con queste etichette che riproducono le copertine dei suoi romanzi più famosi quindi c'è sempre un tentativo di avvicinare comunque le tradizioni della letteratura alla contemporaneità insomma sotto tanti punti di vista quello che volevo dire è che citando questo romanzo poi se c'è tempo magari ne citiamo qualcun altro è che un trend abbastanza importante della letteratura giapponese degli ultimissimi anni è quello di allontanarsi da Tokyo cioè questa fuga da Tokyo alla riscoperta poi di altri luoghi lo Shikoku il Tohoku soprattutto è il nord del Giappone il nord dello Honshu soprattutto all'indomani poi del disastro di Fukushima è stato riscoperto anche come luogo letterario tanti autori nativi di quella zona di quell'area per esempio lo stesso Furukawa Hideo che è nativo della prefettura di Fukushima hanno riproposto in alcuni loro racconti e romanzi come luogo di ambientazione principale il Tohoku la parte nord del Giappone dove poi c'è molto collegamento appunto con anche civiltà insomma che precedono quella giapponese di Yamato gli Ainu per esempio che sono insomma vengono appunto dal nord del Giappone poi si sono trasferite nello Hokkaido e quindi c'è questa volontà da parte degli autori contemporanei di rimettere in luce in rilievo le tradizioni del Giappone anche la mitologia tutta questa generazione in particolare che è nata a cavallo fra gli anni 60 e 70 la generazione che qualcuno chiama penso anche giustamente ormai generazione post-murakamiana riferendosi a Murakami Haruki ma anche all'altro Murakami Murakami Ryu Kakuta Mitsuyo è del 67 Furukawa Hido del 66 Abe Kazushige che citavo prima del 68 sono tutti autori di quella stessa generazione tra i 40 e i 50 anni che si allontanano dalla metropoli e ritornano alle campagne se così possiamo dire tra l'altro un'altra coincidenza importante da sottolineare sono autori che nascono negli anni in cui muoiono i grandi del novecento a partire da Tanizaki Giunichiro 1965 scomparso Mishima Yukio nel 70 e Kawabata Yasunari nel 72 quindi c'è proprio un cambio generale volontariamente scomparso Abe Kovo più recente nel 93 nel 93 Antonietta qualche suggerimento di libro di scrittrice di scrittore da leggere perché poi quello che mi chiedono nel nostro gruppo di lettura che tengo al MAO una volta al mese spesso o comunque le persone che incontro ma appunto vorrei avvicinarmi alla letteratura giapponese oppure voglio partire per il Giappone che libro devo leggere che cosa mi consiglia che autore da che autore inizio io amo molto un'autrice che traduco che si chiama Kawakami Romi per non citare naturalmente quelli più noti li conoscono tutti non mi metterò adesso a proporre Murakami Arufuki ma Kawakami Romi che è molto particolare una scrittura intimista ecco lei scrive lei e questa è una cosa interessante lei i suoi romanzi sono ambientati nella città ma più che la città che può essere Tokyo ma può essere anche un altro posto perché sono ambientati nel quartiere nella periferia quindi non è più la metropoli che lei mette in scena è proprio la piccola vita quotidiana di quartiere con tanti piccoli riti con tante abitudini è una scrittura minimalista però a tempo stesso molto intensa che con mezzi apparentemente semplici perché è molto difficile da tradurre perché è molto immediata molto intuitiva esprime emozioni profonde però così calata in questa vita quotidiana molto in apparenza banale quindi anche lì è un modo diverso di vedere la città perché tutti hanno un'immagine di Tokyo come la metropoli Grattaceli in realtà appunto come dicevi prima basta uscire dal centro andare perché poi Tokyo è immensa basta andare in queste periferie che sia Tokyo che sia Osaka la stessa cosa per trovare una vita di quartiere molto semplice anche molto come dire intima da paese sono dei villaggi sono dei piccoli villaggi la gente si aiuta si parla ho vissuto anch'io nella periferia di Osaka si aiuta si parla si scambia le cose ecco tutto questo forse non si percepisce quando si dice Tokyo no? sì sì non sembra non è questa l'idea l'immagine non è necessario andare in campagna per trovare questo vecchio Giappone in realtà sì bisogna un po' saperlo appunto guardare perché se ci si limita Kawakami Homi te la consiglio sì è molto molto interessante ma infatti ricordandovi quello che dicevo prima e che diceva anche giustamente Antonietta molti romanzi giapponesi attuali contemporanei ambientati a Tokyo in realtà non sono ambientati in una Tokyo così fantascientifica addirittura bledraneriana che uno magari ha sempre immaginato io ricordo che quando sono stato in Giappone la prima volta non c'era ancora internet insomma internet nasceva in quegli anni io ricordo di aver provato una certa delusione perché mi aspettavo di ritrovare queste atmosfere appunto da grandi film di fantascienza appunto la Blade Runner invece niente di tutto ciò a parte le zone centrali di Shibuya di Shinjuku poi in realtà Tokyo non ha insomma tutti questi grattacieli questi edifici che forse sono più diffusi invece a Hong Kong Singapore Tokyo in realtà è diventata Tokyo da poco se vogliamo è Edo è molto estesa la base è lo spirito di Tokyo è Edo nello Città Maci nella Città Bassa c'è ancora tanto c'è ancora della vecchia Edo dell'antica Edo e romanzi contemporanei ambientati a Tokyo in realtà sono ambientati in luoghi o insomma non ben definiti o comunque in piccoli microcosmi all'interno della grande metropoli per esempio un romanzo che ha avuto molto successo ultimamente ha venduto oltre un milione di copie con Bini Ningen di Murata Sayaka che ho tradotto e verrà pubblicato penso a fine agosto inizio settembre è ambientato traduci il titolo però e con Bini Ningen non l'ho detto perché è intraducibile in realtà però se vogliamo forse ci possiamo avvicinare dicendo la ragazza la ragazza del combini ambientato in un combini i combini sono il corrispettivo dei convenience store americani quindi questi piccolissimi minimarket supermercati molto piccoli aperti 24 ore su 24 7-11 Family Mart nel romanzo questo posto questo negozio si chiama Smile Mart fa un po' il verso al Family Mart e gran parte del romanzo si svolge all'interno di questo piccolo negozio quindi pur svolgendoci il romanzo idealmente a Tokyo in realtà avviene invece più o meno tutta la vicenda della storia avviene in questo piccolissimo negozio quindi è un romanzo molto curioso particolare secondo me da leggere invece non si può sapere niente dell'ultimo di Murakami Haruki Killin commendatore quello che sta su che uscirà in autunno questo titolo che sembra orrendo è un romanzo di mille pagine che sto traducendo adesso è molto bello molto bello e questo Killin questo si può dire perché poi già subito all'inizio questo commendatore questo Killin commendatore in giapponese è Kishidan Cho che sarebbe vuol dire capitano dei cavalieri però in realtà bisogna lui stesso ha voluto questo titolo inglese Killin commendatore che verrà tradotto molto probabilmente l'assassinio del commendatore perché si ispira a un quadro che compare molto presto nel romanzo un quadro che rappresenta trasfigurata in ambientazione giapponese la scena d'apertura del Don Giovanni di Mozart in cui Don Giovanni uccide il commendatore quindi quello deve essere il commendatore non si può cambiare in presenza di Donna Anna e di Leforello e di un altro personaggio misterioso perché se no non sarebbe Murakami se non ci fosse un personaggio misterioso la musica è proprio una costante che sia rock che sia jazz che sia Mozart in Murakami sì in questo romanzo c'è molta musica operistica molta musica operistica